Ciao cari, siamo qui per fare il video ask. Mamma! Pardon, pardon, scusate, lo sapete che ho un problema. Non ti preoccupare, nonnina, che cosa ci hanno chiesto? Già, sono curiosa. Non sono domande solo per noi, infatti ogni tanto entreranno degli ospiti in casa. D'accordo, se non si scandalizzano perché oggi è proprio una brutta giornata, mi va di scorreggiare tantissimo. Ne ti pareva. Comunque, prima domanda da UserSZ, eccetera. Aia e Morty si fidanzeranno? Magari, fosse per me sarei già fidanzato. Morty, ne abbiamo parlato. È meglio rimanere amici. Mio cuore si è appena spezzato in mille pezzi. Benissimo. Poi, altra domanda sempre da User. Brian parlerà di più? Eh? Eh, te l'ho detto che non parli mai, Brian, sei un pesce lesso, tontolone, scorreggione anche. Cosa? Non è vero? Certo che è vero, le fai silenziose, ma io so che escono da te. Mamma, per piacere. Basta. Allora, Kevin ed Emily avranno un bambino. Perché ci sei tu qui e non Emily? Ma perché ti ho visto partire di corsa verso questa casa? Mi sono detta chissà che cosa c'è di interessante. Dovevo rispondere ad una domanda su me ed Emily, la mia ragazza. Beh, posso ascoltare. Che hai la domanda è se io ed Emily avremo un bambino? Piuttosto potresti averlo con me? Eh, no, Emily è la mia ragazza. Penny, perché sei tornata? Comunque. Lo sapete che Emily non può avere biologicamente dei bambini con me. Ma possiamo adottarli? Non ne abbiamo ancora parlato, però. Benissimo, passiamo ad Antonio Buonocore. Sky tornerà a scuola? Somarella, sei proprio un'asinella. Asinella Sky. Nonna, non è vero che sono un'asinella. Anche perché con tutte le cose che mi sono capitate, io ho studiato da casa e ho recuperato tutto quanto. Perciò quest'anno io mi diplomo, mi maturo. La mamma matura? Wow, mamma, è proprio un evento. C'è un'altra domanda per me ed Emily. Kevin ed Emily si sposeranno. Beh, cosa gli hai fatto la proposta di matrimonio? Kevin? No, ancora non gli ho fatto la dichiarazione e la proposta di matrimonio. Lei è così impegnata, infatti anche ora è a studiare in quella nuova scuola arcana. Ci stiamo vedendo meno ultimamente. Poi un'altra domanda. Brian, parlerà di più, è sempre quella. Tutti se lo chiedono. Ma perché? Ma io parlo abbastanza. O scorreggia abbastanza. Mamma. Una domanda per le amiche per sempre. Le nonnine? No, le amiche per sempre giovani. Allora, Jenny e Cherry diventeranno mai amiche? Assolutamente no. Mai. Altra domanda per le amiche per sempre. Chi si sposerà per prima tra le amiche per sempre? Probabilmente io. Ma che dici? Io? Non lo so, io prima vorrei laurearmi. Eh, già, anch'io vorrei laurearmi. Allora io con Mumu aspetto la sua dichiarazione. Ne ha fatti da parte, bello. Mi sposerò prima io. Farò il lancio del bouquet e tu lo prenderai. Così poi ti sposerai tu per secondo. Ehi, 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 io sarei la terza. Ma non esiste. Domanda per Annette. Annette, resterai in Italia? Certo, rimarrò qui per un bel po', perché qui ho anche un lavoro. Un lavoro che mi piace, perché devo solo leggere i messaggi. Altra domanda. Quando si sposeranno Blair e Norman? Beh, mi piacerebbe prima della nascita del bambino o bambina. Oh mio Dio, Blair! Bella bellissima Blair! Non pensavo volessi sposarti prima della nascita del bambino. Ma sì! Allora dobbiamo sbrigarci, bella bellissima Blair, perché la tua pancia sta per esplodere! Mi puoi salutare? Mi chiamo Anna. Ciao, Anna! Domanda di Francesca Basile. Farai dei video su Blair e Norman, ora che stanno per diventare genitori? C'è qualcuno che ci spia, ma non ci posso credere, Blair! Siamo ripresi spiati! Ma sì, non lo sai, i vicini spiano sempre. È quello che capita in questa città. È molto probabile che ora che stiamo per diventare genitori inizieranno a spiarci ancora più spesso. E ci filmeranno? Certo, sono i vicini spioni. Valeria Arciuolo dice... Ali, farai la festa di inizio anno. Ci hai dato una bellissima idea. Dovremmo proprio organizzare il comitato di organizzazione della festa di inizio anno e di tutte le feste dell'anno. Mi candido io. Voglio essere io ad organizzare tutte le feste scolastiche. Cherry, dacci un taglio. Voglio essere io e poi tu non sei in grado di farlo. Certo che sono in grado. Ti dico di no, ti manca il buon gusto. Ne invece ho buon gusto da vendere. Ragazze, avete lo stesso buon gusto. Vi piace lo stesso ragazzo. Domanda di Instaclara. Easy, Enea e Morty e tutta la classe, insomma, si alzeranno di livello e andranno a dei livelli superiori? Io spero di sì, mi sto esercitando così tanto nei movimenti di bacchetta magica. Io sono pure retrocesso di livello. Ero una fata di secondo livello ed ora sono di primo livello. Io spero di sì, di crescere e migliorare. Ma se non supereremo le prove di fine anno, beh, retrocederemo di livello, ovviamente. Ma se le supereremo, avanzeremo di livello. Ma certo che le supereremo, siamo gli speranzosi. Non perdiamo mai la speranza. Poi ci chiede chi ha i poteri, smetterà di dirlo in giro. Ma no, io lo dirò sempre, ho i poteri. Povera, povera cara, è tutta matta, poveretta. Forse ha preso un po' troppo da Liam. Liam non è così matto. Nei, ma i poteri ce li ho veramente. Guarda la cara che sventola la bacchetta di Harry Potter. Altra domanda, Aya rivedrà mai le sue amiche di Parigi? Sì, Liam mi ha promesso che ospiterà qui le mie amiche. E io non vedo l'ora, le presenterò tutte a Jenny. Saremo tutte noi, migliori amiche per sempre, con Jenny. Poi, gli speranzosi e le raccomandate aiuteranno Mary Shelley a sistemare le cose con il fratello di Cleopatra. Oh mio Dio, ci siamo scordati di Marcolino? Eppure eravamo così lanciati, stavamo andando di corsa verso casa sua per salvarlo. E poi cos'è successo? Ci siamo fermati a prendere un gelato. Abbiamo chiacchierato e ci siamo scordati della missione. Oh no, poveretta, a quest'ora sarà morto. Fatto fuori da... Non me lo ricordo più come si chiamava quel tizio. Il fratello di Cleopatra, quello un po' strambo, cattivo. Ehi, andiamo da Marcolino, vediamo se è vivo. Povero Marcolino, che la fortuna sia con te. La fortuna di una fata di primo livello, spero che basti. Una domanda bellissima. Quando nascerà la piccola Cosmic? Siamo tutti impazienti. Eh, anche noi cari siamo impazienti, perché così Agatha avrà la nipotina da far uscire al parco con tutte noi e i nostri nipotini. Ciao cari, il parto è prossimo. Davvero, non so quanto resisterò, ma secondo me nasce a breve. Anche lei fa una domanda a Brian. Brian parlerà di più? E Brian e Sky torneranno ad essere i piccioncini, come erano prima. Eh, Brian? Brian, dimmelo. Che schifo. Già, è disgustoso. No, non voglio vedere queste cose. Eh, Brian, hai smesso di corteggiare Sky solo perché siete sposati? Ah, Brian, hai fatto una cosa del genere? Io non parlo. Eh, certo, scorreggi e basta. Quello che sai fare, tra l'altro, scorreggi in modo silenzioso, quindi neanche là fai rumore. Senti qua la mia potenza, Brian. Ah, mio Dio, stiamo degenerando. Poi, ah, un consiglio per Morty. Eh, Morty, invece di ripetere alla tua famiglia che vuoi fare le cose da solo e che non devono starti così assillanti, fagli vedere gli amici che ti sei fatto da solo e mettiti in testa che tu sei perfetto. Mi sono commosso. Tu sei perfetto, così come sei, non devi cambiare perché iscrivendoti ad Arcana ti sei fatto degli amici e che andando in scuola a scuola diventerai un bravissimo zombie. Se no, è stato inutile parlare con la mommia sposata con Cleopatra. Oh, mio Dio, sono commosso. Grazie. Grazie del bellissimo e prezioso consiglio. Morty ne farà tesoro. Velol chiede Quando si sposeranno Blair e Norman? Secondo me sarebbe meglio da luglio 2024 in poi, così hanno il tempo di far nascere la bambina e diplomarsi, eccetera, e prendere anche la patente, magari. So che è tanto tempo da aspettare, ma almeno avresti più tempo per preparare il matrimonio. Eh, la bella bellissima Blair ha detto che vuole sposarsi prima della nascita del bambino e mi sa che sarà una nascita accelerata. Già, in questa città non so che cosa ci sia nell'aria, ma i bambini nascono in pochissimo tempo. Guardate che pancia. Altra domanda che fa Velol. Farai lasciare Kevin ed Emily? Spero di sì. Tesoro, io sono qui per questo. Cosa? No, io sono fidanzato con Emily e mi piace, la amo e ci amiamo. Amave anche a me, davvero solo a ricordartelo. Oh, una domanda per Isi. Isi ritornerà a vivere con i suoi genitori adottivi? Ricordiamoci che Isi ha una famiglia adottiva e il suo fratello è Oliver, fratello adottivo ovviamente. Dice, io spero di sì perché dal punto di vista legale Liam non è niente per Isi e i suoi tutori legali sono il padre e la madre adottivi e secondo me Isi è una grande egoista maleducata perché ora che ha scoperto che Liam è suo padre allora non ricorda più tutto quello che hanno fatto per lei i suoi veri genitori. Ecco, io sono Oliver, suo fratello adottivo ed è vero, mi dispiace che Isi se ne sia andata ma negli ultimi tempi non facevamo altro che litigare. Sì, però io vado ancora a trovarli. Insomma, mia madre e mio padre adottivi sono sempre nel mio cuore ma io ho una sorella, una sorella che sento davvero troppo vicino a me non potevo stare lontana da Charlie di Liam non me ne frega poi molto cioè ok, mio padre è biologico ma voglio più bene a Charlie, mia sorella e la mia migliore amica anche Rory è molto gentile però non è mia madre però è una cara signora cara donna Ecco, Isi lo sai che puoi rimanere a dormire da noi quando vuoi lo so, ma sono tanto impegnata e insomma con Charlie c'è un legame un legame speciale e poi Oliver lo sai ero stufa di vedere Olivia entrare in casa e non lo so, questa cosa mi faceva stare male Ma se reagisci così mi sembra quasi che tu fossi innamorata di me Oh mio Dio, questo non lo deve sapere nessuno è per questo il vero motivo che me ne sono andata perché stavo iniziando a provare dei sentimenti d'amore per Oliver il mio fratello adottivo ma lui è un fratello per me anche se siamo stati adottati e non abbiamo legami di sangue ma non voglio questa cosa perciò starò lontana da lui il più possibile Domanda per Liam, mio fratello Liam avrà altri figli? Spero vivamente di no perché ormai già Enea è di troppo così come Isi E poi, se io fossi in Rory avrei divorziato da secoli e comunque sarebbe solamente rigirare solamente la stessa storia Si lo sa, caro, quanti figli ha sparsi in giro per il mondo Mio figlio Liam è uno zuccone ma di sicuro se salteranno fuori deve prendersi le sue responsabilità questo è certo Allora, i fratelli Ranma Robin deserà un abbigliamento adeguato da ufficio Eccomi qui, sono super elegante altro che Bernie Ehi, stai zitto Io sono bellissimo Non è vero e tu non hai la ragazza mentre io sì quindi il più bello sono io perché sono fidanzato Non c'entra niente stai zitto Benissimo, benissimo Tefi, Topuk, eccetera Ali, queste sono le mie domande Perla si fidanzerà con Luau? Ai, 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 piccola Lo so che sono irresistibile Luau Assolutamente no Poi dice Chi si sposerà per primo tra Benny, Bernie, Roby, René, Cassie, Contessina, Totò, Margot o Elix? Ma sicuramente sarò io Ma non è vero se non hai neanche la ragazza E poi io e René lo stiamo già progettando Cosa? Certo, abbiamo intenzione di crescere usando i poteri di René di sposarci e avere una famiglia Roby, sei impazzito? Cosa stai dicendo? È vero Vi salgo e Nan Dice Sky, andrai a scuola? Sì, certo Sky, fai la casa di Emily e Kevin? Assolutamente Anche questa è nella lista delle case da fare E poi, che bella domanda Ci fa State bene? Certo, caro Un abbraccio Grazie per la domanda Io sto benone Guarda qua Che figurino che sono Sono splendida Una pelle radiosa Anch'io sto benissimo Ho la mia bambina Pina qui con me Anch'io sto davvero Molto bene Anche se mi piacerebbe che In questa città arrivasse un bambino Interessante Insomma Ci sono pochi Bambini interessanti qui Ehi Vabbè, tu sei quasi mio fratello Che c'entra? Io ho un po' di scureggi nell'intestino Ma è la normalità Grazie cara per la richiesta Tutto bene Brian ha parlato Poi White Bunny dice Che fine ha fatto Margot? Margot è Con Totò L'avete vista? Oh, ma Totò l'ha lasciata Povera Margora Pensa di venire a piangere tra le mie braccia Ma non esiste E Vincent Che fine ha fatto? Ora lo chiamo Vincent Sono Sky Sì Sto parlando con i vicini Sì, sì Quelli che ci spiano sempre Ma ci stanno anche facendo delle domande ora Certo No, non è inquietante È la normalità I vicini si fanno sempre gli affari degli altri Questo è essere un buon vicino di casa Comunque mi hanno chiesto dove sei Non sei più assieme a Regina No, Vincent E Regina si sono lasciati Eh? Vincent? Ma questa da te non me l'aspettavo Oh mio Dio Vincent! Vabbè Basta fare i vostri Vincent ha trovato un'altra Ecco fatto Altra domanda Da Sorayavd I gemelli rimarranno piccoli per sempre? Certo che no Diventerò grande e bellissimo E farò un sacco di conquiste Io diventerò una scienziata Famosa e vincerò un sacco di premi Nobel Avete visto? A me piacerebbe Che rimanessero bambini per sempre Ma devono crescere anche loro Certo E lo rispetto Io crescerò domani Ah Stai zitto Robby Stai zitto Guarda che le prendi Eh? No Abbasso la violenza Uno sculacione cari Non ha mai fatto male a nessuno Sapete quanti ne ho dati a Bernice? E hai visto Com'è cresciuta Le hanno fatto male Allora Una delle domande di Sere adoro Alicraft Scusate se non le stiamo facendo tutte Ma non ci aspettavamo che il video venisse così lungo Quindi dovremmo anche fare due parti Probabilmente Comunque Sky e Brian avranno altri figli? Oh mio Dio no Eh? Cosa vorresti dire tesoruccio? Certo che avremo altri figli Altri figli? No! Assolutamente no E dove li mettete a dormire? In camera con noi? Già siamo in tre Ma io vorrò altri figli Brian Cari Due bastano e avanzano E se ti nascono altri due gemelli Sky come fai? Devi prenderti una villa Non c'è problema Sono una redatrice Oh mio Dio Mamma Altri fratelli? No E se nascono come Bernie? Sarebbe impossibile Convivere con loro Ehi Ma ti sei vista tu? Poi Chiede Potresti fare una puntata speciale solo su Rory? Grazie Sare Davvero Grazie E assolutamente sì Ehm I vicini devono iniziare a spiare anche me Perché ho molto da raccontare E finalmente si capirà perché ho la pancia Poi dice Potrei essere salutata da Robby e Bernie Li adoro molto Ah mio Dio Ciao Sare Ciao 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 Sare Grazie Ciao ciao Jukex Michelle dice Ma come mai Easy pensa che i fantasmi esistono? Ed è andata alla scuola di Arcana? Perché è tutta matta cari Lo sanno tutti che i fantasmi non esistono Mamma basta scorreggiare Non ho scorreggiato io Brian? No io le faccio silenziose E allora è stata la mamma Ti dico di no Ciao cara Sono andata ad Arcana Perché così posso imparare ad usare la mia magia Ho scoperto di essere un'invocatrice Grazie alla mia discendenza di sangue Sono una discendente di Bartolo Il mio bisnonno Bartolo Lui era un invocatore Perché Bartolo Discende dalla famiglia dei Vlad Un'antica stirpe davvero magica e potente Quindi io ho ereditato il potere di invocatrice Dal bisnonno Bartolo E ad Arcana avrò la possibilità di riuscire ad utilizzare al meglio i miei poteri Che ora non sono in grado di usare Una domanda per Cassandra Perché Cassandra si rifà? Perché è una cessa! 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 Non è assolutamente vero che sono una cessa Io sono stupenda Ho 150 anni passati E vi pare normale essere così bella a 150 anni passati? Tutto merito della scienza, amici Affidatevi sempre a bravi scienziati Vi miglioreranno la vita e l'estetica Per me l'estetica è tutto Sono bella dentro E così sono bella fuori Il mio aspetto estetico non rispecchiava la bellezza che avevo dentro Perciò ho deciso di rifarmi Sono tutta finta tranne i denti Adesso mi vedete con le bende perché ho avuto un piccolo incidente Mi sono rirotta il naso Ma presto tornerò ad essere sorridente per finta Perché non muovo i muscoli facciali Ma sono molto bella Poi, Cassie, Contessina, René, Roby, Benny, Bernie, eccetera Vanno nella stessa scuola? Sì, andiamo all'asilo Siamo ancora dei cacasotto Non ribatti, Bernie L'ho detto apposta per offenderti Non è vero, è la verità Me la sono fatta sotto anche adesso Mamma, mi cambi il pannolino? Bernie, devi imparare ad usare il vasino Fai come la nonna Bernice, Vladimira e Agatha rimarranno amiche Io, certamente Amiche per sempre E ci sono anch'io Assieme Siamo le nonnine per sempre Grazie Ali Scusa il disturbo Mi chiamo Mia Ciao Mia Un bacio Poi, Angie, Roby, scrive Ma Benny troverà mai l'amore E Bernie ne sarà felice Certo che troverò l'amore Ma per me non è indispensabile Perché finché non trovo il bambino adatto Beh, non se ne parla di fidanzarsi Non sono come mio fratello Che appena vede una bambina Subito gli corre dietro Solo perché è una bambina No, io aspetto quello giusto E se non c'è Rimango sola piuttosto Beh, io ne sarei felice Insomma, non voglio mica avere Benny sempre attaccata ai piedi Quando inizierò ad uscire da solo con le ragazze Non voglio avere la sorella Che mi segue Perché lei non ha nessuno Assolutamente Benissimo Simrat Ci chiede come facciamo a creare queste storie così belle E se la possiamo salutare Ciao, Simrat Quali storie, cara? Voi ci spiate dalla finestra Voilà Vedete la nostra vita, tesori È la nostra vita E siete degli spioni, cari Ma Bernarda, non è vero E poi è la regola del buon vicino Spiare all'interno delle case degli altri Io mi faccio sempre gli affari degli altri È certo, anch'io, cara Tutti noi Ed ora non riusciamo a rispondere a tutte le altre domande Ma vi salutiamo Salutiamo Elvira CRTL User So7CM Eccetera Clara My Little Beautiful Lily Eugenio Varano 6558 Mitter 792 Greta Paiuoli Elvira CRTL Duresac Riesi User LQ8ID Eccetera Marcella Simbula Sara Amoruso Concetta Spadola Grazie a tutti voi per le domande che ci avete fatto Ciao, cari, dalla vostra Bernarda, un bacio Ciao, cari, continuate a spiarci, mi raccomando Che a noi fa tanto piacere Siamo esibizionisti Ciao, ciao Seguiteci su entrambi i canali, cari Seguici su IG Per avere immagini gratis e giocare con noi Seguici su Ticket & Ticket Per le live Vi aspettiamo, cari, un abbraccio Vi aspettiamo, cari, un abbraccio Braccio